A Roma, Milano, a Trieste, Torino, a Palermo, a Bologna. Ecco, quelle mamme, quei papà, quegli studenti, quegli insegnanti, quei poliziotti, quegli artigiani, quei pensionati, quei precari, quegli universitari, quelle donne e quegli uomini, quei bambini, quelle famiglie che anche ieri erano a Roma, che anche ieri erano a Milano, non possono essere messi sullo stesso piano dei critini che attaccano, che insultano, che danneggiano, che spaccano, che lanciano sasse, bottiglie. No, no. Quindi diritto a manifestare liberamente, serenamente, pacificamente per qualunque idea come sta accadendo in questi giorni. Ma poi me la son fatta, io ho una domanda o ve la siete fatta anche a voi? Uno di quelli che è stato arrestato, questo signor Castellino, estremista di destra a Roma, aveva un daspo e non poteva andare in uno stadio per cinque anni, aveva il braccialetto elettronico e aveva il divieto di partecipare a manifestazioni pubbliche. Eppure ieri era lì, addirittura col microfono, davanti a migliaia di persone. Ne era stato chiesto l'arresto due volte e per due volte il giudice aveva detto no, non c'è bisogno di arrestarlo. Quindi un soggetto pericoloso, così lo aveva definito il Tribunale, eppure ieri era in piazza, in mezzo alle famiglie, a sproloquiare, a inneggiare la violenza. Possibile che nessuno se ne sia accorto? Ho fatto il Ministro dell'Interno. E qualunque cosa accadesse quando ero Ministro dell'Interno era colpa mia. Qualunque cosa accadesse è in qualche città italiana colpa di Salvini. Eh ma Salvini non l'ha fatto. Eh ma Salvini non ha previsto. Eh ma Salvini non ha impedito. Ora io mi domando, se questo estremista di destra, con precedenti penali, col daspo, col braccialetto elettronico, con le richieste di arresto, col divieto di essere in piazza, era tranquillamente in piazza del Popol con un microfono in mano davanti a migliaia di persone. Chi glielo ha permesso? Chi non lo ha impedito? Chi è l'attuale Ministro dell'Interno? Ha fatto tutto quello che doveva? Ha fatto tutto quello che poteva? Le ipotesi sono solo due. O incapace, inadeguato, impreparato, oppure anche peggio. A chi è convenuto che ieri una manifestazione con migliaia e migliaia di persone per bene, tranquille, di tutte le idee politiche, di tutte le professioni, di tutte le età, di tutte le estrazioni sociali e culturali, finisse in vacca per colpa di 50-100 criminali delinquenti che potevano, dovevano, essere individuati e fermati. ma io mi domando se uno ha il daspo che gli impedisce di andare allo stadio per cinque anni, se uno ha il braccialetto elettronico, se uno ha il divieto di andare a manifestazioni pubbliche, se uno ha due richieste di arresto negate dal giudice in passato, che cosa ci faceva ieri in mezzo a migliaia di persone? Il ministro ne sapeva qualcosa? Se non lo sapeva è grave, perché un ministro che si occupa di pubblica sicurezza se ha un soggetto pericoloso che guida altre migliaia di persone e poi finisce come finisce, evidentemente allora non è in grado di fare bene il ministro. Se invece sapeva e non ha impedito, i latini si chiedevano cui prodest, cui prodest, a qualcuno giova? Ecco, adesso io spero che non ci sia nessun secondo fine, i criminali, i violenti, i teppisti, quelli che lanciano bottiglie, che assaltano le sedi della CGL, che assaltano le sedi dei pronto soccorso, che assaltano le camionette della polizia. Questa, questa è la loro fine, questa è.